Venite tutti a Largo Argentina, così la questura di Roma, il questore ha deciso di rendere invisibile la nostra manifestazione, non saremo più a Piazza Repubblica come punto dove poter consumare del cibo. Andate tutti, fate passare la voce, appuntamento tutti a Largo Argentina, Roma. Nessuno renderà invisibile la protesta degli invisibili. Stiamo arrivando!